Nuovi volti al servizio di una santità. Mi piace prendere in prestito il titolo di febbraio 2019 di Voce di Padre Pio per descrivere la figura di Don Giacomino Gaglione. Assieme a Francesco Bosco abbiamo iniziato questo percorso che ci sta portando alla conoscenza di alcuni figli spirituali di Padre Pio che sono in cammino verso il riconoscimento ufficiale da parte della Chiesa della loro santità. Il bello di queste figure è che sono delle figure che nascono proprio da Padre Pio, potremmo dire, dall'incontro con il nostro Santo e dunque noi in preparazione alla sua festa. Vogliamo proporre questi nuovi modelli, modelli sconosciuti ai più, ma che hanno davvero tanto, tanto da dirci. Don Giacomino Gaglione è il protagonista di questa puntata. Sì, Giacomo Gaglione, Don Giacomino come lo chiamavano a Capodrise, siamo in provincia di Caserta e dobbiamo dire che grazie ai giornalisti, grazie a dei colleghi che nel 1919 lui scopre Padre Pio da Pietrelcina. Il primo servizio giornalistico, non parlo del primo articolo che risale al 9 maggio di quell'anno, del 19, ma il primo servizio giornalistico è del mattino di Napoli che dedica una pagina intera a Padre Pio, raccontando di tutto, come era di statura, quanti miracoli faceva e lo stesso Trevisani tornò in redazione a Napoli, dopo aver trascorso qui alcuni giorni, tornò quasi rivedendo la sua opinione su questo frate che lui ha definito un vero e proprio santo. Un santo che fa i miracoli, così era il titolo di questo articolo, di uno dei diversi articoli che erano a firma di Trevisani e che Giacomo legge e viene colpito. Che cosa era successo nella storia di questo ragazzo, di questo giovane, questo giovanotto, amante dello sport, amante anche della bella vita, poi era di famiglia nobile, lui era nato il 20 luglio del 1896, primo genito di dieci figli, il papà era avvocato, una vita e soprattutto una carriera già predisposta per questo ragazzo, ma purtroppo tornando a casa nel 1912, il 20 ottobre, accusa un problema al tallone e di lì comincia il suo martirio, il suo calvario, proprio perché gli verrà poi diagnosticata la poliartrite, lui non si potrà più muovere se non soltanto la testa riusciva a muovere, lo dovevano aiutare anche a mangiare e a fare di tutto. E qui purtroppo tutta la sofferenza di questo ragazzo viene esternata con un grande rifiuto, un rifiuto verso quello che gli stava accadendo, verso Dio, verso tutti, verso tutti, verso la famiglia, si era chiuso, tentò il suicidio e poi l'incontro con padre Pio, l'incontro con padre Pio che lo converte, lui non ottiene la grazia della guarigione, ma della conversione, lui viene a San Giovanni Rotondo e trascorre con padre Pio pochi attimi, di queste ci sono anche diverse fotografie, una in particolare, ma che si riferisce anche a dagli anni successivi, perché poi di lì diventeranno grandi amici, Gaglione scriverà spesso a padre Pio, padre Pio risponderà anche attraverso i suoi guardiani, perché Giacomo si affiderà totalmente come figlio spirituale a padre Pio da Pietrelcina. E proprio per questo il primo incontro, che è quello che ha caratterizzato la sua vita, lui lo descrive nei suoi diari, che poi diventerà un vero e proprio libro, Pellegrinaggio di un'anima, in questo diario lui racconta che furono circa sei ore in treno, poi altre cinque ore disteso nella stazione ferroviaria e altre due ore in macchina per salire a San Giovanni Rotondo. Chiaramente lui non si poteva muovere, tant'è vero che la testa usciva fuori dal finestrino, quel giorno era anche un giorno, c'era un temporale. Un viaggio drammatico. Un viaggio drammatico per questo ragazzo che voleva a tutti i costi guarire e vedeva in padre Pio la sua ancora, l'ultima ancora di salvezza. Ottiene la conversione, anche perché padre Pio gli risponde, infatti gli chiede, da quanto tempo sei infermo? Sette anni il 20 ottobre, risponde lui che aveva almeno già 23 anni. Padre Pio non dà certezze, però soltanto un auspicio che è tutto da interpretare. Speriamo che non finisca l'anno. I parenti subito pensano che si tratta di un vero e proprio miracolo, che Giacomo sarà guarito, Giacomo si riprenderà, però lui non ha avuto questa grazia della guarigione. Torna a casa, convertito, si mette a disposizione degli altri, casa sua diventa proprio un luogo dove vengono accolte le persone e comincia a fare tanti pellegrinaggi, tra cui Lourdes, Loreto, la stessa San Giovanni Rotondo. Lui dà tutto per i sofferenti. Lo stesso Giuseppe Moscati, San Giuseppe Moscati, in una delle sue tante visite, lo dà per spacciato, nel senso che dice suo figlio alla mamma, suo figlio è inguaribile, quindi non potrà mai guarire. Quindi è il privilegio di incontrare due santi praticamente, padre Pio e San Giuseppe Moscati. San Giuseppe Moscati, che lo andò a visitare. Anche lui diventerà terziario francescano e sentiva che qualcosa in lui doveva cambiare, qualcosa per gli altri, in modo particolare per i sofferenti, coloro che vivevano la sua stessa condizione di sofferenti, ecco, per coloro che erano stati martoriati nel corpo. In uno di questi suoi viaggi, in particolare in un pellegrinaggio a Lourdes, capisce qual è la sua vera missione. Allora Giacomo si offre vittima per la conversione dei peccatori, per la chiesa, si offre vittima per il Papa. E nel 1948 lui crea, nasce proprio l'apostolato della sofferenza, una vera e propria fratellanza spirituale tra tutte queste persone che sono martoriate nel fisico dalla malattia. E poi ancora dal 52 comincia una vera e propria attività internazionale di Giacomo, perché non è solo la stessa capodrise che si rivolge a lui, che lo definisce già una sorta di santo, ma anche da ogni parte del mondo. Cominciano a scrivere, grazie a questo suo piccolo periodico, Le Ostie sul mondo, cominciano a scrivere da ogni parte del mondo, a ogni parte d'Italia, si rivolgono a lui per richieste, ecco, affinché lui preghi per tutte queste persone. E a tutte le ore casa sua diventava un luogo dove si accoglieva la gente, bussavano anche la notte per consigli e lui era sempre disponibile con tutti. Un vero e proprio figlio spirituale che si è formato sotto la guida dello stesso Padre Pio, che con lui si incontrerà spesso, diverse volte qui a San Giovanni Rotondo. Nella corrispondenza che ha avuto con Padre Pio, lui spesso gli lasciava dei piccoli bigliettini di cui uno lo ha inserito proprio come nella prefazione del suo secondo libro, Allo specchio dell'anima. Padre Pio gli scrive, non si diparta mai dalla tua mente la passione di Cristo se vuoi partecipare ai suoi trionfi. Quindi è sempre lo stesso Padre Pio, il suo padre spirituale, il suo amico, il suo confidente che lo incoraggia anche fino all'ultimo, infatti nel 61 quando lui scrive 50 anni di croce per saper sorridere. Giacomo era diventato una piaga vivente, quindi mettiamoci, anche dalle foto ci siamo accorti di questa sua postura, lui poteva in questa sua sedia rimaneggiata che oggi è in stile sedia a rotelle. Lui individuando, cioè capendo un po' che era giunta la fine, chiede a Padre Pio di morire nel mese più bello dell'anno, quello dedicato a Maria. Lui allora scrive una lettera a Padre Pio chiedendogli proprio questo e Padre Pio lo rassicura, lo rassicura. Gaglione infatti verso la fine del mese di maggio riceve una lettera da Padre Pio che lo rassicura e lui muore il 28 maggio del 1962 e Padre Pio da San Giovanni Rotondo scrive un altro telegramma con Gesù sulla croce, con Gesù nel Santo Paradiso. Infatti qualcuno tornando da San Giovanni da un pellegrinaggio tenuto a San Giovanni Rotondo, qualcuno di Capodrise, ha raccontato proprio che hanno chiesto a Padre Pio ma veramente Giacomo è un santo padre e Padre Pio ha risposto un santo Giacomino è un grande santo. Venerabile Giacomo Gaglione, un'altra grande figura legata a Padre Pio assieme a tante altre che scopriremo nei prossimi giorni. Grazie Francesco, grazie a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.